Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Fino alle 17 di oggi pomeriggio in direzione Bologna è chiuso per lavori il tratto tra il pivio a 1 variante e aglio e quello tra aglio e rioveggio. Sulla FIPILI per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Sul raccordo Bettolle-Perugia fino al 2 giugno per lavori nei pressi dello svincolo di Pietraia, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in direzione Perugia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!